amici di bici da strada bentornati sul canale con me anche oggi c'è daniel rocchi che ormai conoscete bene e che in queste ultime settimane ha provato per noi la nuova basso astra bici lanciata qualche settimana fa una bici endurance che oggi potremmo definire un po con i termini attuali anche on road perché poi daniel ci dirai è utilizzabile anche per fare un po di sterrato leggero quindi la bici se vogliamo moderna non la competizione ma pensata per trovare un equilibrio tra comfort e una buona prestazione diciamo divertimento quindi io daniel iniziere subito con alcune caratteristiche a partire a mio avviso dalle geometrie che sono abbastanza identificative di questo modello assolutamente assolutamente abbiamo un reach bello contenuto e uno stack bello alto questa è una taglia 56 con un orizzontale di 56 per 56 e gli angoli sterzo e del tubo verticale sono tutti e due 73 e mezzo è una bici impostata bene come dicevi va a rispecchiare quelle che sono le geometrie di una bici endurance oltre a questo col fatto che abbiamo dei passaggi comunque belli importanti per le ruote possiamo montare copertoni fino a 35 quindi oltre a quello che può essere un utilizzo endurance io proporrei anche quello che un utilizzo all road lo vogliamo chiamare per uscire bene fuori strada con un copertone semmai un pochettino più largo quindi una bici che risulta comoda ma allo stesso tempo ha delle geometrie che scaricano a terra perché comunque sia il carro posteriore l'hanno lasciato bello corto e quindi l'energia che esprime sui pedali viene scaricata molto bene risultato una bici comoda ma che spinge che va cioè hai l'idea di avere sotto una bici veloce che non è poco su queste bici infatti direi che studiando un po le geometrie a mio avviso sono un po l'elemento caratterizzante perché è un endurance un po sui generis come dicevi tu quindi per sintetizzare quindi comoda come impostazioni alta abbastanza corta però con una parte posteriore che comunque aiuta un po nella resa quindi è comoda ma non è addormentata quindi direi che come concetto mi piace molto rispetto magari alla diamante alla diamante csv cioè le bici racing qui troviamo ad esempio un carro ribassato un po più legato alle modi del momento ma anche che permette una maggiore flessione quindi un maggiore comfort in questo allestimento daniel abbiamo 105 di i2 ruote in in carbonio microtech quindi di casa basso quanto è il peso allora la bici pesata quei pedali passa i 9 kg 9 kg 105 e uno si potrebbe un po a storcere il naso per il peso ma in realtà è un peso che ce lo dimentichiamo in strada perché come dicevo prima la bici va e va molto veloce la ruota l'avevamo già già vista su altre biciclette una ruota che comunque gira molto bene e innesta bene potenza a terra non è rapidissima semmai ci sono anche delle ruote migliori è un chilo e sei per avere un'idea e bella riattiva e da belle sensazioni sente molto poco il vento laterale quindi anche sulla guida ti dà molta sicurezza già l'impostazione di suo e più e più la ruota danno proprio questa bella sensazione di guida che di ti fa pensare di poterla usare un pochettino veramente dappertutto in strada fuori strada ma anche come passezzo cioè da proprio l'idea di essere una bici adatta 360 gradi quindi per quello che anche un po l'utente moderno diciamo non quello corsaiolo ma per tutti gli altri che poi amano la bicicletta in tutte le sue forme una parentesi sul peso tra l'altro abbiamo detto bici montata non è leggerissima però il telaio è poco sopra 900 grammi quindi se noi andiamo a montare una ruota magari un pochino più leggera componentistica un po più leggera siamo possiamo fare una bici sicuramente nell'ordine dei 7 e mezzo comunque sotto gli 8 kg dipende poi dal prezzo che si vuole spendere e dalle esigenze a proposito ti chiedo anche il prezzo in questo allestimento ricordando poi che è possibile comunque anche personalizzare diversi aspetti anche della componentistica sul sito basso sì qui siamo intorno ai 5000 con questa con questa composizione comunque sia i prezzi vanno dai 35 ai 55 come gamma diciamo si colloca in quella che è un po la classica fascia media un tempo costava un pochino di meno oggi la fascia media è salita purtroppo quindi siamo in quella che oggi attualmente è la fascia media qui abbiamo il solito il classico reggisella il sistema di chiusura sella di basso giusto il 3b clamp con tre viti posizionati sulla parte posteriore del piantone e questo inserto che aiuta a assorbire un pochino le vibrazioni si sente Daniel? si sente si sente perfetto oltre a quello anche tutto il sistema comunque paradigma sulla scomparsa dei cavi qua davanti cioè dalla bici una linea molto elegante molto elegante volevo dire una cosa anche sulla verniciatura utilizzano una verniciatura un po' particolare più resistente più veloce e che si lava meglio su questo ne siamo proprio certi sul più veloce non possiamo capire se una verniciatura è più veloce ma è una vernicia che se si è di qualità quindi diversa rispetto a quella tradizionale ti voglio fare anche una domanda perché sicuramente chi ci guarda avrà notato hai poco fuori sella quindi probabilmente la bici è un pochino grande per te in questo caso diamo due indicazioni così anche chi dovesse cercare e sceglierla magari ha un'indicazione questa ripeto è una 56 io giro con un'altezza sella di 74 mi ci sarebbe voluta almeno una taglia in meno di bicicletta quindi quando si va a scegliere le biciclette giustamente quando le scegli della propria taglia vanno sempre meglio con la taglia un pochino più grande su queste bici che comunque hanno un tubo verticale bello alto l'ingombro dell'orizzontale dopo c'è quindi andare a scegliere la taglia giusta su una bici endurance forse è più importante e allora abbiamo già detto ci si può fare anche sterrato molto divertente andiamo a concludere un po con impressioni sia in salita che in discesa anche se abbiamo detto la performance non è diciamo l'obiettivo primario di questa bici però come ti sei trovato come ti è sembrato? comincio dalla discesa perché la bici è veramente veloce i copertoni non sono semmai proprio da piega a piega quindi non l'ho provato bene sulle curve ma sulla velocità incredibile provando anche posizioni particolarmente aerodinamiche anche se non andrebbe bene riscopri molta velocità è una bici che veramente è veloce in salita ti dà l'idea di essere un po' impastata perché la performance non è la caratteristica principale quindi ti dà l'idea di una bici che non parte in realtà spinge benissimo e scarica benissimo a terra cioè ti trovi una bici da utilizzare non per fare degli scatti o per queste situazioni qua ma per mantenere un bel passo sul passo è molto potente per godersi le uscite magari anche per chi fa gran fondo non per chi fa proprio l'agonismo spinto con un allestimento per alleggerirla qualcosina diventa comunque un prodotto molto interessante perché abbiamo detto spesso che la prestazione sul lungo periodo è anche legata al comfort perché se tu dopo un'ora o due cominci a stare scomodo e avere dolori comunque fai più fatica quindi ha un target di pubblico, un target di utilizzo molto molto vasto e anche legata diciamo a quello che è un aspetto estetico interessante e accattivante molto molto bene io direi che Daniel rimandiamo per tutti i dettagli precisi per le votazioni al nostro classico test che trovate qui sotto il video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale bcdastra.it e ai prossimi video, grazie Daniel grazie a tutti